Circa 10 ettari di zone umide andate distrutte, animali acquatici morti, l'intervento di un canader dalla mezzia terme e l'opera di spegnimento da parte di vigili del fuoco, corpo forestale dello Stato e dipendenti della regione Puglia. E' questo il bilancio del primo incendio della stagione verificatosi nell'oasi Lago Salso di Manfredonia. Secondo i vigili del fuoco sono stati sette i focolai appiccati sulla strada provinciale 141 tra Manfredonia e Zapponeta e tutti di natura dolosa, a facilitare il propagarsi del fuoco la mancata bonifica degli argini che costeggiano l'oasi. Fortunatamente nessun problema ai vicini villaggi turistici della Riviera Sud divisi dalla strada provinciale. Le fiamme hanno però distrutto i cavi della linea Telecom nel tratto interessato dall'incendio. Tutte le strutture ricettive, le abitazioni civile dei villaggi turistici sono al momento senza servizi telefonici e internet. Un'altra spada di Damocle sugli operatori turistici che da due mesi stanno facendo i conti con la chiusura per lavori della SP141. E sempre nella giornata di ieri altri incendi hanno interessato l'agro di Manfredonia. In fumo centinaia di ettari di grano. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco si è evitato il peggio.